Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa seconda puntata dei nostri Survival Games con X-Bubble Shooter. Ciao! Questa volta ci siamo veramente messi di impegno per farvi divertire e direi che abbiamo raggiunto davvero delle vette di neubezza... Assurde. Assurde. Infatti siamo finiti in un buco e siamo rimasti lì a marcire per una cosa come 20 minuti. Comunque non vi svegliamo niente e iniziamo subito con i nostri Suicidal Games. Whee! Allora facciamo una bella sfilata di quelli che passano. Questo è un My Little Pony arrabbiato. Quindi penso che va a manca. Ah sembra a tono. Mi pigiama. Ah giù. Ah questo stima grandissima con questo vestito che sembra... Un pompa magna. Sì sì sì. No c'è il nostro amico Facocero. Ah! Guarda c'è il nostro amico Facocero. Ormai c'è in ogni... Questo sta collegato tutto il giorno. No però un'altra volta era un altro Facocero eh. Che sono cambiata. C'è un bel teletubbies guarda qua. Un teletubbies! Mio! Ti voglio! Mio! Babbo lascia stare il teletubbies. Su. Che non è bello. Sono slendy tubbies. Voglio Tink Winky. C'è un Superman dall'aria molto intelligente. Ah! Questo è bellissimo. Ha la schiena del tuo... Closhar. Non vorrei proprio essere salvato da lui. Inc. Ciao. Buongiorno. Questo non so chi sia. Boh forse è Capitano America. Mh sì forse. Un po' fatta male però la schiena si è fatta male. Sì se si è fatta è fatta male. E questo è un troglodita ovviamente. Io ricomincio a scattare. E un uomo è un uomo. Un uomo è un immancabile uomo che c'è in ogni video. Però anche se è una donna misto. Un uomo è un uomo. Tra l'altro... Sì. Tra l'altro dai capelli da dietro sembra un po' come si chiama? È full metal alchemist. Ma non capiscono. Va bene. Poi abbiamo un re dei creeper. Ah proprio... Il G manco lui vorrei incontrare perché sai che bella esplosione. Secondo me dovremmo fare una serie solo guardando le skin dei giocatori. Perché io mi diverto tantissimo. Con il Tibet proprio un'infilzata di fenomeni come questa. Un bel figo David 4 pro... No, 5 pro. Perché 5 pro? Anche perché noi più di tanto non possiamo sperare di fare negli Hunger Games. Quindi sembra che il divertimento a killare non ce l'hai. Noi sappiamo il divertimento a morire, a criticare le skin e a dire quelle belle e quelle bevute. No, non l'ho potuto vedere. Ah, questa... No, non è quella che pensavo io. Io questa mi hai vista in vita mia. Sì, anche io pensavo che fosse l'isoletta. Quella lì che aveva fatto con company, porta sfiga. Ma è piccolina. Io vedo la palla di vetro. Io sono... Dove sai, Bubble? Dammi un'indicazione. Sei vicino al troglodita o sei vicino alla donna nuda? Ho preso un... Qualco... Eccoti, ti vedo. Eh, già mi stanno saccagnando di botte. Andiamo bene. Sono dietro di te, eh. Ok, io qua devo cercare di scappare. Oh mio Dio, non mi picchiate! No! Mi prego! No! Io mi percerò, siete degli idioti. A pugni proprio! Per starvi! Infamolli, 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 infamolli! Vinco io qui! Eh no, mi sa che vince lui, eh. Aia! Mi stanno già ammazzando. No, sono morta. Che cattivo! Chi è che mi ha ammazzato? La donna nuda, mi sa. Ma come fa ad essere già full armor? Non lo so chi ha. Perché è già full armor, c'è un pezzo di ferro, spada. Cioè. Sì, sì, è lui, è la donna nuda, mi sa. Chi è lui, la donna nuda? Capito! Ma sì, perché nessuna donna si fa... No, forse è Link. È Link. Ho perso, ho perso. Ho perso. E' Link. Sì, sì, c'ha il cappellino verde sotto. Quindi penso... Ah, la donna nuda! La donna nuda! Entro. Allora, andiamo a vedere. Io no! Ah, adesso ci sono, guarda, c'è già. Goku, cioè sia Goku che Vegeta. Ha la coppia vincente. Sì, sì. Dai, dai, entra! Entra, entra. C'è Goku e Vegeta, poi. Ah, bene, però c'è originalità, portami via. C'è una barretta di cioccolato mezzo rosicchiata. Aspetta, devi vederla. C'è una barretta di cioccolato mezzo rosicchiata. Eccola qua. O con la mia texture è qualcosa di fantastico. No, devo assolutamente vedere. Immagino. Con tutti... Poi andiamo a vedere se c'è qualche altro fenomeno. A baraccone. Questa è un anotra. Ma dietro sembrava quasi un uomo d'affari, in giacca e cravatta. Abbiamo l'anotra e il pollo. Questo ha gli occhi grigi, mi dispiace. Mi dispiace, dovrei andare da... Olleh, siamo per iniziare. Dov'è la nostra Rowin? Qui vedo Goku, Vegeta, non so. Allora, io sono vicino al pollo, Vegeta. Ah, vedi Vegeta? Mi sa che quello è Goku. No, si chiama Goku, per cui quello sarà Goku, ma... Io sono tra la barretta di cioccolato e la papera. A vederli. Quindi sei totalmente dalla parte opposta e dove sono io. se non vedo per niente. No, ma è di nuovo una mappa odiosissima. Cioè. Allora, o io sono veramente, veramente, veramente impedita, o gli altri hanno lo speed, perché... No, anch'io, ma per il blocco, mi blocco in ogni parte, in ogni dove. Io non vedo nessuna Rowin, questo è il problema principale. Eh, mi sa che adesso... Vedo, ti 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 vedo. Cioè, qualcuno ben armato dietro. Vabbè. Quindi preferirà colpire me. Io vedo tante viane ronda. Uh, c'è una cassa, c'è una cassa. Prendiamola prima che la prenda Bubble. Eccoti! Vai, prendi dalla cassa, c'è un'ascia. Ah, bene, proprio spiriti. La mia è fatta di... 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 Guarda, qua sotto c'è un'altra di cassa, andiamocela a prendere. Io, si fanno un sacco di danni da caduta. Un gozzo di ferro. Ah, che hai preso tutta. Allora, che... Sono più veloce, almeno in questo, dai. Ah, perché si larga. Si larga. Si larga, appunto. È volata, Rowin. No, Rowin è saltata, ma... No, si vede nel mio video, sembrava tipo che eri partita, allangato, è partita in aria. Direi, saliamo? Eh, non abbiamo nessun'altra scelta. Magari tu avessi un pollo, un coscio... No. Pollo non ce l'ho, ho dell'altro cibo, ma pollo no. Vabbè, è qualcosa da mangiare. Preferisci la torta di zucca, il pane, oppure la... L'anguria. Pane, 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 perché il dato è coscio, o te. Vedo Rowin che fa certi saltoni della Madonna, io... Che da me è tipo un muffin. Un muffin. Il pane, un muffin. No, c'è un caduto. A un certo punto mi è sembrato di vedere un altro Romeo al posto di Rowin. Infamollo! Aiutami, aiutami, aiutami. Arrivo, arrivo, Babbo, è la riva a difenderti, arrivo, arrivo. Ho solo un cuore, solo un cuore, solo un cuore, solo un cuore, l'ho allontanato. Vado a smacciullarlo io, guarda, tranquillo. Un ceramico, ma se... Dai, 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 che lo massacro. Sto ammazzando una, non ci credo, ragazzi, cioè... Ma quanto sono brava. L'ho ammazzato. Avevo... No. Io sono a tre... Tieni. C'hai anche i pantaloncini, adesso. Allora, qua c'è una cassa. Ah, non l'avevo... Ma vuota? No, non c'era niente. E non fare sempre la suocera ad ogni cassa. Su, quando mi sono vestita io, ti vesti anche tu. Certo. Pensa piuttosto a trovare un po' di gear. Su. Non trovo niente io. Allora. Io vorrei trovare qualcuno da ammazzare, perché poi alla fine dici di... Io ho ammazzato te, non l'ho ammazzato io. Sì, ho ammazzato, evviva. Rui, questa mi sa che se non si fa fatta come Cristo comanda, ci si fa un bel po' male. Secondo me è semplicemente una bella trappolona di quelle che vai e sei fregato. Insay that. Cassa. Dota. Facciamo il gioco delle casse vuote, dai. Sì, dai. Facciamo tutte le casse vuote a... Capito, che è cattivo. Ora ci faccio cadere la mia assa di legno. Non lo faccio, poi mi distrugge. Ma qual è il senso di tutta sta roba? Cioè, non c'è una cassa, non c'è niente. Quello di far squirare a Ruby, poi appena Ruby trova qualcosa, Bubble fa open-inv e trova. Open-inv. Ma sì, c'è, cavoli. Mi ha dato un alberello! Guarda quanta roba qua sotto. Qualcuno che ha fatto... Ma una volta che cade... Dai, vai giù a vedere, io non ci voglio andare. Però magari... Però io ho il problema che non ho ci... Ah, ah! Fapponi, dei fapponi, posso saltarci sopra, eh? Vabbè. Beh, io direi che intanto qua siamo in prigione. Quindi... Ma hai visto per... C'è per caso una crafting box? Ah, che bello, è un buco. Che genio, questo uomo. Ok. Siamo caduti nel buco. No, io non ho nemmeno una crafting table. Qualcosa. Beh, in compenso io ho full armor di... Aspetta. Eh, rosa sei. Guarda, guarda. Perché non mi dire che dobbiamo camperare fino a che non arriva... Il deathmatch? Eh. Eh, mi sa di sì. Eh, guarda, non siamo mica tanti, eh. Se ci mettiamo qui nel buchetto, appena arriva qualcuno... Oh, mio Dio, Roi. Allora... Ecco Bubble bloccato. E il Bubble che si libera. Non sprecare l'accia lì. Vabbè, aspettiamo, dai. Sì, sono già passate 5 persone da qua sopra e loro lo sanno che non ci si doveva buttare qua sotto. Noi invece siamo stati gli scemi. Ma non è che sono più furbe, sono più... Più nerdone, ci passano qui il giorno. Questo è un map. Ma le fanno tutte. Mi sto rompendo l'anima. Quasi, quasi darei un po' di fuoco a Bubble Shooter. Cosa dici? No, 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 no. Non sono una birce da... Da, 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 fa. Diamo un po' di fuoco alla Bubble Birce. Oh, mio Dio. Evviva! Evviva! Battaglia! Eee, ho vinto, no? Non sono leggi, non sono le presa alle spalle! Mai fidarsi, Bubble. Poi ero io quello che davo la macullata alle spalle. Bene ragazzi, il video di oggi è finito. Se vi è piaciuto lasciate un commentino o un mi piace qui sotto. Grazie per averci seguito e arrivederci al prossimo video da Rowen e Bubble. Ciao! Ciao!